Io sono Angelo Rispoli, il segretario provinciale del CSA, che è un sindacato autonomo degli enti locali e sono anche, come tutti i nostri colleghi di un sindacato di base, sono un dipendente di un ente locale, nel caso di un'ispecie io sono un appartenente alla Polizia Municipale di Salerno. Io ringrazio quest'emittente dello spazio che ci sta dando perché in questi giorni, domani mattina precisamente, avremo un incontro con l'amministrazione del Comune di Salerno sulla questione della Polizia Municipale. La questione della Polizia Municipale di Salerno è emblematica perché, oltre a essere la Polizia Municipale del Comune Capoluogo, è il corpo di Polizia Municipale più numeroso. La crisi che attraversa questo corpo è un po' un segno di condizioni degli altri comandi nella provincia di Salerno. La realtà qual è? Noi abbiamo a Salerno un organico di 220 addetti con un'età media intorno ai 55-56 anni. Lei immagina personale con 30 anni di servizio che si vada a rincorrere, tra virgolette, un giovanotto di 17-18 anni. Prima considerazione. Seconda considerazione. Abbiamo delle radio a bordo delle nostre auto, auto in leasing, un apparato radio che oggettivamente ha un'età superiore ai miei 30 anni di servizio. Eppure non è un problema solo di fonti. Ma al di là di questi problemi al nostro interno c'è un concetto fondamentale. Attualmente noi siamo impegnati in prima persona sul lungomare di Salerno. Ora, questo tipo di attività diventa proprio della Polizia Municipale se all'interno di quell'area, sulla lungomare di Salerno, ci fossero delle competenze specifiche, indese come lotta all'ambulantato, come lotta ai veicoli impropriamente in sosta, che sono un po' le caratteristiche tipiche della Polizia Municipale. Perché la Polizia Municipale è una polizia di prossimità. È quella dove il cittadino che ha i problemi immediatamente si rivolge. Il dato reale qual è? Che le questioni della lungomare sono completamente diverse. Sono situazioni di ordine e sicurezza pubblica. Per intenderci, bisogna in tutti i modi operare una presenza dello Stato che allontani dalle isole pedonali, lungomare, Corso Vittorio Emanuele, in maniera significativa, piazza sedile del campo, allontani in maniera chiara gli spaccedori. Per fare questo bisogna che lo Stato dia un'immagine di presenza anche con le unità cinofile, che non sono attualmente in dotazione della Polizia Municipale. Quindi occorre un piano interforze che veda collegato in azione sinergica Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, dove ognuno per le proprie competenze dia un prodotto, che è il prodotto della sicurezza. Oggi cosa avviene? Se i viali della lungomare c'è una presenza della Polizia Municipale, una presenza della Polizia Municipale che, per carenze di organico, noi riusciamo a garantire fino alle 22. In questo modo facciamo due pessimi servizi. Il primo, non siamo più in grado di servire la città sui compiti fondamentali nostri, che significa traffico, viabilità, dove gli utenti chiedono l'intervento della Polizia Municipale. Dall'altro lato, concentrandoci sulla lungomare, dove non è un'attività nostra, perché un ambulante abusivo è un ambulante abusivo, ed può essere una competenza della Polizia Municipale. 400 ambulanti abusivi diventano un problema di ordine e sicurezza pubblica e si interviene con le competenze che lo Stato ha avvocato a sé, alle forze di Polizia Nazionale. Noi possiamo intervenire in supporto. Chi vi parla, nonostante i suoi 30 anni di servizio, e nonostante che abbia fatto qualche sequestro di sostanze stupefacenti, oggettivamente non ha una preparazione specifica, non credo di essere in grado di riuscire a distinguere la differenza tra una bustina di cocaina e una bustina di zucchero a velo. Ben altre forze di Polizia hanno ben altre attrezzature e competenze. Non è pensabile che non ci si accorga che sui viali della lungomare c'è una presenza concreta di persone dediche allo spaccio di sostanze stupefacenti. Se io dico delle cose non vere, immediatamente chi mi accusa di questo viene smentito dai fatti. Sono stati fatti due blitz con circa 22 arresti. Quindi significa che con forza lo Stato deve dare una sua presenza. Noi chiediamo al sindaco del comune capoluogo di dar vita, come dice la norma, a un comitato unitamente al prefetto, a un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui si discuta di questa vicenda. Sistemata una situazione a Salerno di un programma di azione, interforze, dove tutte le forze di polizia operano tra di loro in base alle loro specificità, riusciremo poi a tradurre questo modello a trasmetterlo in tutta la provincia. Tenga presente che in molte aree i miei colleghi della Polizia Municipale non sono armati, oltre ad avere un'età avanzata, una carenza di fondi e quindi occorre necessariamente una precisa scelta. Anche in questo caso la Regione Campania, con la riforma del titolo quinto della Costituzione, ha delle precise competenze. Io prendo atto che il governatore della Campania ha detto che per il passato c'era anche un'emergenza sicurezza a Salerno, condividendo la nostra tesi. Io gli do atto pubblicamente che quando è stato sindaco di Salerno lui ha costruito con noi organizzazione sindacale, un protocollo in cui dividemmo la città di Salerno in aree. Nelle isole patedonali intervenivano polizia, carabinieri, guardia di finanza, con le unità cinofile, nella zona di Corso Garibaldi, via Roma, lungomare, dove era una zona di traffico, fino a notte fonda intervenivano la Polizia Municipale. Oggi questa volontà non c'è. Domani mattina alle 12.30 c'è un incontro con l'assessore della Greca, che è l'assessore al personale del Comune di Salerno. Speriamo di avere una svolta positiva, altrimenti andremo in un esprimendo delle lotte. perché il Poliziotto Municipale eroga un bene primario, che è la sicurezza, ma per dare sicurezza deve operare in sicurezza lui prima.